Da come avete pensato, da come avete visto la post, scusate, si mi prendo una pausa su youtube Mi prendo una pausa su youtube, cioè perchè ragazzi sono un po' stanco, cioè in poche parole sto pubblicando in poche parole video ogni giorno Proprio ogni giorno e quindi mi prendo un po' di pausa adesso, mi prendo un po' di pausa fino all'8 agosto Ma tanto ragazzi non vi preoccupate, non chiude il canale, non chiude il canale E' solo che mi prendo un po' di pausa fino all'8 agosto perchè sono un po' stanco di caricare video ogni giorno E quindi, poi a volte non c'ho tempo, a volte, non che ne so, a volte mi capita di non riuscire a fare un video A volte tengo ancora altri video da editare, il bello, uno ancora che non tengo, uno dove non tengo ancora il microfono E' un altro E' un altro di Fahrenheit Funkin', quindi direi che mi prendo per il momento un po' di pausa fino all'8 agosto E niente, ci vediamo all'8 agosto